Thomas ha tre anni, non parla, non cammina, non sta seduto, non mangia cibi solidi e probabilmente non lo farà mai. Ha una malattia rarissima. Si chiama leucodistrofia di Pelizaus-Mersbacher. Una patologia neurologica rarissima che conta solo sette casi in Italia. Colpisce un bambino ogni 500.000 nati. Purtroppo non sembrano esserci cure. L'unico supporto possibile è quello fisioterapico e logopedico. Il bambino quando aveva sui 6-7 mesi, dopo che aveva già il ritardo della crescita molto pronunciato, alla tappa che tutti i bambini dovrebbero stare seduti, a 8 mesi. È stato fatto degli esami genetici e praticamente lui a 10 mesi d'età avevamo già la diagnosi di questa rarissima leucodistrofia e da lì in poi è iniziata la nostra avventura con Thomas. Che cosa vi hanno detto i medici? Che non c'erano praticamente cure al momento conosciuti? No, praticamente essendo una malattia che colpisce un bambino ogni 400-500.000 bambini capisci che cure a oggi purtroppo non ci sono. L'unico aiuto medico che si può dare a Thomas è logopedico e fisioterapico e poi tutto quello che occorrerà nel tempo perché comunque la malattia purtroppo ha una certa progressione fino a un determinato momento che dovrebbe arrestarsi. L'anno scorso si è operato, gli si è impiantato una pompettina al blacofene per alleviare la rigidità che gli dà questa malattia e già rispetto all'anno scorso è molto più sereno, molto più tranquillo, molto più malleabile anche per le fisioterapiste e poi soprattutto per la mamma che ci sta praticamente 24 ore su 24. Le cure purtroppo non ci sono, ad oggi non ci sono. Ecco Sia, quali sono le difficoltà del bambino nella quotidianità? Le difficoltà sono sicuramente la gestione, anche il mangiare, però la gestione del bambino da quando si è fatta l'operazione che come ha detto lui prima è molto meglio, lui è molto più gestibile rispetto a prima. Prima uno non lo poteva lasciare da solo nemmeno un secondo per esempio, ora invece ci sta anche da solo, sta nel seggelone, nel suo seggelone a sedere tranquillo, cosa che prima non ci stava, quindi diciamo sotto questo punto di vista qui è più gestibile. Poi certo c'è il mangiare, c'è il bere, cose che uno deve sempre stare attento e poi tutti i giorni fisioterapia, bibbiena, lezzo, vanto e indietro, quello... E la nutrizione come avviene? La nutrizione, lui mangia pasti semisolidi quindi omogenizzati con i brodini alla cremina di risto e l'acqua o acqua gel, dipende lui come sta, ora per esempio lui c'è stato un periodo che non è stato tanto bene, ha avuto una broncopolmonitina e quindi lui sta prendendo l'acqua gel per far sì che non gli vada attraverso l'acqua e quindi gli si crea una vingessis che può essere più pericoloso insomma. Per spiegare a chi ci ascolta è una malattia che colpisce il linguaggio, il movimento? Praticamente colpisce tutto, lui non sta a sedere, non sta su con la testa, non parla, lui non fa niente praticamente, dobbiamo essere noi bravi a capire lui cosa ci vuole comunicare, cosa che stiamo facendo con la logopedista di Agassi di Arezzo che piano piano si sta imparando a capirsi diciamo così. La vostra vita ecco com'è cambiata? Immagino che si lavora ovviamente, già è difficile oggi no? In una situazione apparentemente normale, in una situazione ovviamente di un bambino che ha bisogno di esistenza continua, è chiaro che immagino le difficoltà. Eh la vita è cambiata perché diciamo che non è una vita che rientra nella normalità, ogni almeno uno o due volte al mese dobbiamo andare al Maier, prima di tutto per la ricarica della pompetta che ti ho detto prima, poi per tenere sotto controllo una volta a livello oculistico, una volta a livello motore, una volta a livello fisiatrico, è impegnativa la vita con lui e poi non è una vita diciamo che rientra nella normalità perché logicamente non è un bambino come tutti gli altri, per certi aspetti è un bambino speciale comunque che comunque sia, dona e ci fa donare un sacco d'amore. Perché comunque ovviamente è empatico e chiaramente anche gli scambi affettivi nella sua forma ci sono. Certo che ci sono, lui trasmette tantissimo l'affetto e la serenità quando è con la mamma, oppure da un paio di mesi l'abbiamo inserito all'asilo, all'asilo nido con bambini diciamo che rientrano nella norma e questa cosa a 360 gradi porta beneficio sia a lui che agli altri bambini che di conseguenza a noi, soprattutto alla mamma perché io purtroppo devo lavorare, sono l'unico che lavoro nella famiglia, lei non può lavorare, non potrà mai lavorare, il suo lavoro è Thomas diciamo e quindi insomma è importante soprattutto anche per lei ritagliarsi di tanto in tanto qualche spazio per staccare un pochino la spina da questa situazione pesante diciamo dai. Comunque nonostante tutto ci riteniamo sereni e tranquilli e riteniamo anche Thomas sereno e tranquillo nonostante le difficoltà. Sette casi in Italia credo ci siano, siete in contatto con le famiglie di questi bambini, vi è capitato di condividere questo tipo di esperienza? Sì successivamente subito dopo la diagnosi abbiamo, ci siamo messi in contatto con una famiglia di Ancona e il loro bambino ha circa 12-13 anni quindi è già da un pochino più di tempo che hanno dovuto fare i conti con questa malattia quindi noi personalmente abbiamo conosciuto loro per cercare di trarre insegnamento dalla loro esperienza. Sette casi come dici te è una ricerca che è stata fatta qualche anno fa, mi sembra nel 2012 ora a che ora però non sono cose più ufficiali o sicure siamo sui 10 casi a quanto ho letto ultimamente io. Si parla di cura in questo momento sperimentale, ecco vi hanno dato informazioni sotto questo punto di vista su quale strade magari potete intraprendere oltre ai miglioramenti che già sono stati fatti? Diciamo che ci sono state delle sperimentazioni anche quelle risalenti ormai al 2012 che però non hanno portato nessun beneficio alla fine della sperimentazione quindi diciamo che ad oggi noi stiamo con gli occhi e l'orecca ben aperti per cercare di vedere se succederà mai che verrà fuori qualcosa di concreto però purtroppo al momento dobbiamo fare i conti con la realtà che dice che non c'è cura per la malattia. Speriamo in un domani la speranza come si dice è l'ultima morire. Vediamo dei bei sorrisi per ogni tanto anche adesso ne ha fatto uno. Sì, a lui gli piace parecchio giocare, gli piace parecchio il contatto come diceva anche prima il bab è parecchio i coccoloni quindi basta niente che lui ride In questi anni, questi mesi soprattutto c'è stata comunque anche una gara di solidarietà adesso ci sarà invece una gara nel proprio senso della parola per darvi comunque una mano perché comunque ne avete bisogno Comunque la gente ha dimostrato che a livello benefico insomma ci ha voluto, ha capito subito qual è la situazione e ha voluto aiutarci fino ad arrivare al giugno 2016 dove tramite Andrea della palestra Body House qui di Bibbiena e i suoi collaboratori hanno pensato simbolicamente di far nascere questa corsa per Thomas essendo lui un bambino che purtroppo nella malattia che ha non potrà mai probabilmente neppure provare a camminare correre per lui ha una valenza simbolica veramente importante. L'anno scorso purtroppo c'è stato dei problemi meteorologici nonostante questo è stato, a loro dire, è stato un ottimo risultato. Speriamo che quest'anno sia altrettanto importante la partecipazione della gente Appuntamento quando? A Bibbiena Appuntamento il 18 di giugno, domenica 18 di giugno a Bibbiena dalle tre e mezzo, quattro in poi che so io, ora per informazioni c'è Body House, c'è mia sorella e tutto è, però insomma dalle quattro in poi una corsa per Thomas, la seconda edizione. Noi a meno di cose impreviste che con Thomas non lo possiamo non lo possiamo mai sapere, saremo sicuramente presenti e felici di essere presenti Volete lanciare anche un messaggio per quanto riguarda l'abitazione, ecco perché oltre alle difficoltà che avete detto prima, vivete in che condizioni in questo momento? Noi viviamo da quando Thomas è nato, viviamo in un'abitazione di 30 metri quadri circa dove per farti un esempio se noi si deve fare il bagno tocca portarlo dalla misocera perché non c'è proprio lo spazio nemmeno per mettere una bacinella d'acqua. Un domani ci piacerebbe anche poterla fare a casa la fisioterapia se avrà la possibilità allestire un angolo della sua camera per la fisioterapia. Ad oggi la nostra difficoltà primaria è proprio lo spazio e le esigenze di Thomas che non sono assolutamente soddisfatte queste esigenze dove abitiamo ora. Vogliamo vedere se riusciamo a trovare una soluzione per questo problema nel più breve tempo possibile e questo sicuramente ci fa il piacere che la gente sappia che tra le nostre tante esigenze c'è anche questa della casa. La cosa ideale per lui sarebbe una casa completamente in piano perché ora ancora no ma fra non tanto tempo sicuramente lui avrà una carrozzina ora c'è un passeggino speciale diciamo speciale chiamiamolo un domani sicuramente ci vorrà la carrozzina quindi capisci che fare due rampi di scale anche solamente quello crea difficoltà e poi proprio per un'esigenza anche a livello logopedico e fisioterapico a noi ci piacerebbe che Thomas potesse fare fisioterapia a casa sua sarebbe un sogno oltre a tutte le altre problematiche della casa troppo piccola diciamo. Nel limite certamente che uno le possa cioè nel limite che uno possa fare queste fisioterapie a casa magari. Certo certo questo sicuramente non è più possibile abitare dove dove stiamo abitando ora sicuramente in qualche modo dovremo una soluzione. Anche perché magari cioè sfiderei qualsiasi persona che ci abbia un bambino piccino sano a continuare a fare il bagno al suo figliolo e alla sua figliola una bacinella di queste grandi che lo vede che non c'entra più quindi immaginatevi magari come ci possa stare lui insomma non è tanto bello ecco. Poi Thomas al di là dei problemi o del problema che abbiamo che ha trovato lui nella sua strada in salita nella vita è un bambino che noi vogliamo trattare come tutti gli altri bambini quindi perché lui ancora deve dormire nel lettone con babba e mamma dovrebbe avere una cameretta tutta sua cioè basta poi